Buongiorno, buon sabato. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno, buon sabato. Scendiamo adesso a centropagina. Andiamo a vedere nella fotonotizia il calcio di Serie B. Biancazzurri di scena alla Spezia. Zeman carica il Pescara. Giochiamo meglio di tutti. E poi, per quanto riguarda sempre lo sport, le interviste. Presidente DC gravina no al commissario in Federcalcio. E un volto noto del giornalismo della Rai. Mazzoni, voce abruzzese della Formula 1. Andiamo a vedere anche nelle cronache a Pescara. La sentenza criticò la figlia di Teodoro Sabatini, assolta dal giudice. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Enrica Sabatini, è stata assolta in primo grado nella causa civile intentata nei suoi confronti da Gianni Teodoro, attuale assessore e papà di Veronica Teodoro, componente della giunta, fino ad ottobre 2016. Teodoro aveva ritenuto lesive nei confronti della famiglia le parole usate dalla Sabatini durante un consiglio comunale per criticare la nomina di Veronica, l'assessore del comune di Pescara. Scendiamo ancora, andiamo a vedere le altre notizie. Le associazioni Nuova Pescara, strigliata ai tre sindaci al termine per esprimere un parere, scadeva il 10 novembre, ma i sindaci Alessandrini, Maragno e Dilorito non si sono ancora pronunciati sulla Nuova Pescara e le associazioni rimproverano. Poi Montesilvano, Fanghi da Ortona, tre comuni si oppongono, sono quelli di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Pineto, contrarie ai 342 mila metri cubi di sedimenti derivanti dal dragaggio di Ortona che dovrebbero essere sversati a largo delle coste dei tre comuni. Scendiamo nel taglio basso, il buongiorno Abruzzo, firmato da Giuliano Di Tanna, la rischiosa fortuna del barbone Johnny. Una notizia, una buona notizia, una bella notizia che arriva dagli Stati Uniti e dal New Jersey con un racconto di una donna che si è fermata lungo la statale 95, Kate McClure, 27enne del New Jersey, si è fermata perché la sua auto non aveva più benzina, un barbone Johnny Bobbitt Junior, veterano di Marina, l'ha aiutata andando a comprarle della benzina con gli ultimi soldi che aveva in tasca 20 dollari e per sdebitarsi la ragazza ha poi effettuato una raccolta fra gli amici riuscendo ad arrivare alla cifra di 175 mila euro. Lasciamo la prima pagina del centro di Pescara, adesso andiamo a vedere le altre edizioni provinciali. Nella prima della provincia tiatina, donne picchiate e denunce in aumento il titolo di apertura. Nel Chietino tanti casi di violenza, ma cresce la risposta alle richieste di aiuto. Andiamo a vedere le altre notizie. Nelle cronache il genetista di Chieti, Palca, va in pensione e lavorerà da volontario. Andrà in pensione il primo dicembre prossimo il genetista Gian Domenico Palca, direttore della genetica medica di Chieti. Palca lascia l'incarico dopo 44 anni di lavoro, ma annuncia che continuerà ancora a lavorare. Lavorerò da volontario, non posso lasciare da solo il mio successore, con il rischio di disperdere tutto il lavoro fatto finora. Il genetista ha affidato la sua promessa anche al direttore generale dell'ASL, Pasquale Flacco. Scendiamo ancora dalla provincia. Avvasto, discarica rifiuti, la bonifica ferma da mesi. Vallone, maltempo, Avvasto, la bonifica della discarica sottoposta in frazione dell'Unione Europea è ferma da nove mesi. È stata predisposta una variante al progetto, ma mancano i fondi per completare l'intervento. E poi la Chieti, bimba di nove anni, fugge da scuola e vaga in centro. Il protagonista, una bambina di nove anni, la luna voleva raggiungere la sorella, è stata ritrovata dopo due ore dalla polizia. Andiamo a vedere anche a centro pagina, nella fotonotizia, in scena per salvare la tela di San Giustino. Al Marucino lo spettacolo degli attori di Chieti per raccogliere fondi, leggiamo nella didascalia, restaurare una tela del XVI secolo custodita nella cattedrale di San Giustino. È l'idea delle associazioni sacro e profano, il Lions Club, i Marucini e i Teatanti. L'appuntamento con l'amore, Nengunasche Temp, è per il 13 dicembre alle 18. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere insieme l'edizione Terramana. Il titolo di apertura è dedicato alla violenza sulle donne. Più di 100 le donne picchiate. Sono i casi accertati in provincia nel 2017, l'ultimo ad Alba, presa a calci in strada. Andiamo a vedere nelle cronache. Ritroviamo la politica con la crisi al comune di Teramo. Ho chiesto a Brucchi il rinvio del Consiglio della Verità. La maggioranza in comune tenta di ricompattarsi prima del Consiglio straordinario convocato dal sindaco Maurizio Brucchi per analizzare la situazione politica. E questo è il senso dell'iniziativa presa dai capi gruppo rimasti fedeli al primo cittadino e dai fuoriusciti di futuro in Alfredo Caccioni e Vincenzo Falasca che hanno chiesto il rinvio della seduta che è stata fissata lunedì alle ore 16. Brucchi prenderà una decisione nella giornata di oggi. E poi da Giulianova Mastropieto e il marito tornano liberi per l'inchiesta Castrum dopo sei mesi di detenzione. La dirigente del comune di Giulianova e suo marito, imprenditore, entrambi indagati per un presunto giro di tangenti, sono di nuovo liberi, revocati gli arresti domiciliari. Andiamo a Silvi, reagisce e mette in fuga il rapinatore. Un addetto alla vigilanza privata che si trovava per caso nella farmacia comunale di Silvi ieri sera ha messo in fuga un rapinatore e è entrato nell'esercizio con in mano una pistola giocattolo. Centropagina, la protesta contro gli aumenti a Roseto. Roseto sala piena per l'assemblea anti-Tari. Nella didascalia c'erano centinaia di cittadini ieri sera a Palazzo del Mar a Roseto per l'assemblea convocata dalle associazioni di operatori turistici e commercianti che contestano i pesanti aumenti dell'Atari decisi dall'amministrazione comunale e preparano un'azione collettiva. Andiamo a vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro. Siamo all'edizione di L'Aquila-Avezzano sul Mona. Titolo di apertura, l'Iris, siamo pronti anche a rivotare. L'Aquila, conteggio bis delle schede, il vice sindaco. Non accetteremo pasticci. Ad Avezzano ancora la politica. De Angelis spenderemo per avere più sicurezza. Un investimento economico del Comune contro la criminalità e la convocazione urgente del coordinamento interforze sono le decisioni adottate nel corso di un summit per la sicurezza in prefettura a cui ha partecipato ieri mattina il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis. Si attendono intanto gli interventi di messa in sicurezza e muratura degli accessi delle strutture abbandonate in città diventate rifugio di spacciatori clandestini e tossicodipendenti. Dall'Aquila ancora rissa sfiorata nel processo a Nadia Desdemona-Lioce. Tensione in aula a Palazzo di Giustizia. Per il processo la brigatista rossa che sta scontando l'ergastolo al carcere delle Costarelle. Il giudice ha fatto sgomberare l'aula. E poi sul Mona, generale morto, morto, riascoltato, il blogger. Siamo al caso del suicidio dell'ex generale dei Carabinieri Forestali Guido Conti. Il blogger Lucano Giorgio Santoriello, che con lui aveva avuto diversi contatti attraverso Facebook, è stato riascoltato dagli investigatori che stanno conducendo le indagini per fare luce sulla morte ancora misteriosa del generale. A centropagina, Teatro San Filippo rinasce. Ecco le immagini. All'Aquila ci sono 250 posti. L'apertura sarà in primavera. Nel centro storico si tratta di una struttura, già una chiesa barocca, i cui lavori di restauro sono stati appena terminati. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo del sindaco Biondi con i tecnici. Lasciamo il centro. Cambiamo testata. Adesso andiamo a vedere la prima pagina del messaggero. Inserto Abruzzo. Il titolo riguarda l'inchiesta di Rigopiano. Rigopiano, non ci rompano. Telefonate della vergogna. Un dirigente stradale bloccò l'intervento di un subordinato. Suppressing dei politici. I tecnici dovettero aprire la via per Abbateggio. E passo Lanciano. Quello dell'albergo non deve rompere i puntini puntini. Deve stare calmo. Intorno alle 9.30 del 18 gennaio scorso. Leggiamo l'estratto dell'articolo a pagina 43 e a pagina 45. Come detto, questa è la risposta del dirigente del servizio viabilità della provincia Polo d'Incecco. In prima la storia maledetta di Rigopiano. La prima virata verso la tragedia. In pieno marasma per un'ondata di maltempo eccezionale, ma anche pienamente prevista. Ed Incecco risponde al telefono a Morio Di Blasio, responsabile del settore operativo sul campo, che raccoglie e seleziona le richieste di aiuto che arrivano da ogni angolo del territorio. La conversazione è intercettata dalla squadra mobile nell'ambito di uno dei filoni sugli appalti della regione, nella quale, indagato per la vicenda del Parco del Lavinio, è finita agli atti del secondo round della strage del resort a supporto dell'impugnazione di concorsi in omicidio e lesioni personali. Anche se ne scopre soltanto ora l'esistenza, in ordine cronologico non è che la prima delle telefonate della vergogna in quella giornata, insieme a quella divenuta ormai famosa dell'SOS. poi inizialmente ignorato dalla Prefettura. Andiamo a vedere ancora per quanto riguarda la tragedia di Rigopiano, resort sotto la valanga, la Procura bisognava dire di no, hotel in quota, il Comune è stato inadempiente. Piano regolatore mai nato, scrive la Procura, che avrebbe impedito il rilascio dei permessi a costruire con conseguente edificazione dell'hotel Rigopiano nelle nuove articolazioni rispetto a quello edificato nel 1970. Questo si legge nelle carte della Procura. Continuiamo con la cronaca, centro pagina, il caso di Renata Rapposelli, smontata l'auto del marito, trovato del terriccio. Il materiale verrà comparato con quello dove è stato trovato il corpo della pittrice. Nel tentativo di far luce sulla morte di Renata Rapposelli, i carabinieri del RIS hanno ispezionato la Fiat 600 del marito sulle ruote e sui parafanghi hanno repertato del terriccio che verrà comparato con quello che si trova a Tolentino, nel luogo dove è stato ritrovato il cadavere. Questo potrebbe mettere una pietra miliare nell'indagine, collocare o meno l'utilitaria sul posto in cui si trovava la pittrice, ritrovata nelle marche dopo essere scomparsa un mese prima. Ancora la cronaca, questa volta Val Vibrata, i ladri sfondano la vetrata con l'auto a riete spaccata al centro commerciale Val Vibrata di Colonnella. Andiamo a vedere di spalla un'notizia che riguarda i trasporti, Cività Vecchia e Ortona, i porti vanno a nozze, il patto con lo storico accordo per collegare il tirreno all'Adriatico. Nel taglio basso, orrore all'ospizio, quella anziana è una bestia. Sono alcune delle frasi intercettate che accusano i gestori della casa anziana Arcobaleno di Vasto, che il 15 maggio 2016 portarono in carcere i due titolari. Pesanti maltrattamenti con un caso di evento morte che viene passato al setaccio al processo dinanzi alla corte d'assise di Lanciano. Andiamo a vedere nel taglio alto gli altri richiami dalle pagine interne, pericoli, l'Aquila ancora nel labirinto delle zone rosse in centro, e poi turismo, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Pineto contro i fanghi e il calcio di Serie B. Il Pescara oggi ha la spezia in cerca di conferme. Mister Teman affrontiamo una squadra molto offensiva. Occhio a Granoce, squadra Zampano o Crescenzi sono gli unici dubbi. Tra i Liguri, out l'ex Gilardino. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, l'IFN ha tenuto nascosta l'acqua. Il forum delle acque spiega come e perché è stato autorizzato l'esperimento SOX nei laboratori. Poi, notizia che abbiamo già visto anche in precedenza, il consiglio convocato da Brucchi verso lo slittamento di una settimana per la crisi politica al Comune. Andiamo a vedere adesso a centropagine il 25 novembre partita la campagna della CIPIO provinciale, mai più in silenzio contro il femminicidio. Di spalla, l'Adria e la Media Service furto di prodotti Apple da 80 mila euro a Castellalto. A Colonnella tentano la spaccata alla OVS e nel taglio basso a Roseto degli Abruzzi, Pienone all'Assemblea del Turismo per il ricorso contro la stangata della Tari. Lasciamo le prime pagine regionali, adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Andiamo a vedere i titoli principali. Il Corriere della Sera apre con, purtroppo ancora una volta, un atto di terrorismo. Un giorno di sangue in Moschea, in Egitto. L'attacco durante il venerdì di preghiera. Prese di mira anche ambulanze con i feriti, bombe e spari sui fedeli. Almeno 235 morti. Al Sisi, la risposta sarà brutale. Vedete le fotografie, purtroppo, nel Sinei Ribelle, dove cresce l'Isis. Poi troviamo la Kermess politica della Leopolda. Renzi e la Leopolda dilotta subito alla legge sul fine vita. Andiamo sulla Repubblica. Il titolo di apertura, elezioni al veleno, partiti sull'astrico e falsa propaganda. Fake news, accuse a Movimento 5 Stelle. Il caso pure sul New York Times. Le forze politiche devono trovare 50 milioni, ma tutti i finanziamenti resteranno oscuri. E poi c'è la vignetta di Altan, dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne. Sono nata donna, ergo me la sono voluta. Andiamo a vedere ancora le altre notizie sulla stampa. Il titolo di apertura è sull'Egitto. Strage contro Al Sisi nella moschia del Sinai. Oltre 200 morti, i jihadisti aprono il nuovo fronte. I terroristi fanno esplodere ordini e poi usano le mitragliatrici all'uscita dei fedeli. Quasi tutti i sufi. E poi la Leopolda, Renzi schiera i giovani, Berlusconi risponde coi manager. Nel weekend parte la sfida, l'ex premier ai social, insieme contro le fake news. Il Fatto Quotidiano. Titolo di apertura verso il voto. Black Friday e i boschi fa disastri sui collegi. E Ghizzoni è in arrivo. Troppi seggi a rischio. Renzi furioso. E il banchiere parlerà di Etruria. Nel taglio alto il Sinai, i jihad contro Islam. Strage in mosche a sufi. 250 morti. Assalto alla folla in preghiera. Nella regione impugno al califato. Il sole 24 ore adesso. Andiamo a vedere il titolo del principale quotidiano economico finanziario italiano. Banca, rally in borsa. Aria di svolta sui non performing loans. Sui crediti deteriorati. Banca d'Italia. In nove mesi smaltiti. 26 miliardi di sofferenze. Dopo il Parlamento, anche il Consiglio dell'Unione Europea boccia gli addendum. Tajani, i tecnocrati, non fanno leggi. E poi scendiamo nel taglio centrale del giornale. Magneti Marelli. Ipo da 4 a 6 miliardi. Allo studio il collocamento del 50% del capitale entro metà del 2018. Ritroviamo chiaramente la strage nel Sinai e la Jihad adesso fa tremare l'Egitto. E poi nel focus del taglio alto del giornale. Iper ammortamento per le imprese. Subito il bonus investimenti anche con perizia nel 2018. Andiamo adesso sul manifesto. Il titolo classico sulla fotonotizia. Tutte per una. Oggi manifestazione di donne in tutto il mondo per la giornata contro la violenza. Istituita dall'ONU nel 1999. In Italia sarà Roma ad accogliere il corteo nazionale. Organizzato da una vasta rete di associazioni e movimenti. E poi l'Egitto carneficina nella moschea. L'attacco jihadista nel Sinai. Andiamo sul messaggero adesso. Il titolo di apertura. Raggi assente avanti per Roma. L'intervista del ministro Calenda. Il sindaco non fa proposte al tavolo. Pronti a fare da soli. Al vertice con 100 imprese non si è presentata. Eppure disponibili 1,2 miliardi per la capitale. Questa è la critica del messaggero al sindaco di Roma. Ritroviamo anche l'inchiesta di Rigopiano. Rigopiano, i nastri shock. Quelli dell'albergo non devono scocciare. Ecco le telefonate contestate agli indagati. Al direttore dell'hotel dite di stare calmo. Abbiamo visto anche sul inserto Abruz. E poi la strage in Sinai. Egitto massacrato. Massacro Isis nella moschea. Al Sisi reagiremo in maniera brutale. Bombe raffiche sui fedeli del Sine. I 235 morti. 100 i feriti. Andiamo sul quotidiano. Il tempo. Il titolo di apertura. Ecco i 100 nomi del crack MPS. L'elenco. C'è chi ha ottenuto centinaia di milioni dalla banca senese. Senza ridarli. Spuntano grandi aziende. Costruttori. Antipubblici. Fondi. L'intera economia italiana. A centropagina. Lo stadio della Roma. Lo stadio si fa e paga lo Stato. Via Libera l'impianto della Roma. Decisivo l'intervento del governo. E poi chi vince e chi perde. Con i nuovi collegi. Con la mappa elettorale dell'Italia. Il Rosatellum B. Se è finalmente pronto per l'uso. Il giornale propone alcune simulazioni. Andiamo su Libero adesso. Il titolo di apertura. Casini. Secreta i nomi. Noi gli diamo lo stesso. L'elenco dei debitori che hanno rotto la banca di Siena. Il presidente della commissione d'inchiesta sui disastri del credito. Ha nascosto l'identità di chi non ha restituito i milioni avuti in prestito. E querela noi che abbiamo detto. Che lo abbiamo detto a chiare lettere. Ma i suoi giochetti non funzionano. Allora la lista è uscita e noi le offriamo ai lettori. La verità fa male alla politica. Scrive il giornale diretto da Vittorio Feltri. E poi a centropagina una foto di D'Alema. Pur di farle scarpa a Renzi. Oddio D'Alema se la fa con i preti. Dal leader più ateo della sinistra. Apertura all'Opus Dei e ai Gesuiti. Ora il giornale. Ennesima Capriola. Alfano si suicida. Bene. Angelino getta la maschera. Noi andiamo solo con il PD. Berlusconi no tasse a chi assume i giovani. La verità. Titolo di apertura sulle banche. I grandi debitori della popolare di Vicenza. La pubblichiamo i nomi di chi ha avuto i soldi. Tutti i crediti a rischio dell'ex istituto di Zonin. Ma è sbagliato considerare chiunque abbia preso denaro come responsabile del crack. A fare chiarezza in teoria doveva essere la commissione di Casini. Che sembra pensare più al suo destino che a quello del risparmio. Andiamo sul secolo d'Italia. Elemosina di governo. È il titolo del giornale che riguarda gli incrementi e gli arretrati per i settori della pubblica amministrazione. Comprese le forze armate. In primo piano nel taglio basso. Stop immondizia da Roma. Le regioni contro la Raggi. Caos clandestini in Italia. Anche Rwanda si offre. Poi riecco il Sironi originale. Capolavoro degli anni 30. Andiamo su avvenire. Il quotidiano cattolico. Apertura non paura. È il titolo principale. Andiamo a vedere perché. Il Papa non respingere i migranti verso i luoghi di persecuzione. E la politica sia più responsabile. Il fatto. Messaggio della giornata mondiale per la pace 2018. Alimentare i timori crea violenza. La dignità umana va tutelata. Vaticano con l'ONU. E poi ritroviamo la strage nel Sinai. Lecidio in Moschea 235 fedeli massacrati. Attacco non rivendicato ai Sufi nel Sinai egiziano. Raid sui jihadisti. Il mattino di Napoli ora. ISIS in fuga. La strage è un segnale. Minniti. Napoli questione nazionale. C'è una deriva ghengeristica della Camorra. Il ministro dell'interno. 30.000 miliziani tornano dalla Siria. La sicurezza si conquista in Libia. E poi la cronaca. Bombe e spari sui fedeli. 235 morti nella moschea. Altra notizia. Donna molestazione. Giallo sui soccorsi in ritardo. La tragedia ad Afragola. Andiamo sul secolo XIX. Il titolo di apertura. Liguria. Nuovi collegi. Big in lotta per un seggio. Il centrodestra sogna l'unplain. Il PD può schierare i ministri. Renzi alla Lopolda lancia la campagna anti-fake news. Andiamo ad aprire lo spazio ora dedicato al nazionale per quanto riguarda lo sport. Partiamo dalla gazzetta dello sport. Messi. Champions. Ti manca Milano. Questa è l'intervista della gazzetta. Il campionissimo del Barça. Rivoglio Inter e Milan. Il calcio italiano non è più lo stesso. In Europa vedo bene City e PSG. amo stare con i figli anche se sono destri. Andiamo a vedere nel taglio alto. Mezza A si allea per le riforme. Obiettivi. Evitare il commissario FIGC. Ed eleggere la D. Allo studio il modello Premier. Questo per quanto riguarda il grande caos determinato dall'uscita della nazionale. dal playoff mondiale. E poi di spalla notte da primato Spalletti carica l'Inter con i numeri. E poi andiamo a vedere le altre notizie. Nel taglio basso. Roma casa dolce e casa per il nuovo stadio celocchei del governo. Andiamo a vedere adesso il Corriere dello Sport. Il titolo di apertura. Icardi per sempre. Quattro anticipi in A. A Cagliari tutto esaurito per l'Inter alle 20.45. Spalletti rivela. Maurito vuole restare con noi. Nel taglio alto. La politica del calcio. Commissario per il calcio. Gli italiani favorevoli. Il 52% dei tifosi vuole cambiare ora. E la metà dei club. Apre a Malagò. Il sondaggio. Una svolta dopo il crack mondiale. Venturetta Vecchio fuori. Cambiano gli scenari. E poi la tu per tu di Walter Veltroni. Prandelli dice. Ripartiamo dai giovani. Così l'ex CT. E poi di spalla c'è la Juve. Ecco, vedessi. Rinforzo in più per Allegri. Già in campo domani. E poi nel taglio basso. Roma. Darmianna a gennaio. Partito l'assalto di Monci. A United e Murigno. Estero. Zazza esclusivo. Pronto a sfidare Messi. Poi resto in Liga. Troviamo anche il basket. La nuova Italia. Subito vincente. Qualifiche mondiali. Battuta la Romania. Domani in Croazia. Andiamo a vedere anche il titolo di Tutto Sport. Manzukic non torna più. Stiamo parlando ovviamente della Juve. Verso la svolta tattica. Tra i motivi anche la volontà del croato. Che progetto mondiale da centravanti. Basta sacrifici sulla fascia. E vedessi nella difesa 3. Domani sera contro il Crotone. E poi di spalla il Torino. Cairo va in pressing su Sinisa Mijailovic. Il presidente insiste. Col Milan sfida speciale per Mijailovic. In gioco Europa e futuro. Il Milan. Montella respira dopo la vittoria in Europa League. Ma resta sotto esame per l'Inter. A Cagliari c'è una notte da capolista. Ci fermiamo adesso per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni meteo. E poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna. Tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione. Apriamo la pagina di primo piano del quotidiano Il Centro. E troviamo gli sviluppi dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano. Un milione di mail sequestrate. La procura indaga sulla regione. L'omessa a redazione della carta dei pericoli valanghe. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. Spunta la dichiarazione dell'ex direttore dei lavori pubblici Pierluigi Caputi. L'aggiunta era consapevole. Dopo i cinque funzionari indagati. L'inchiesta sui 29 morti sale di livello. Per capire dove e quando si è interrotto l'iter. I consulenti della procura dicono il sito valanghivo. Quelle morti si potevano evitare. Andiamo a vedere ancora su questa notizia. C'è il caso perché niente invito ai parenti a farindola per il Chivanis. Che ha organizzato una messa per le vittime. Dimenticando i familiari ed è polemica. Lasciamo questo argomento che ritroveremo poi sulle pagine Abruzzo del Messaggero. Le autostrade del mare, sempre in primo piano sul quotidiano Il Centro. Porti firmato l'accordo con il Tirreno. Le autorità di sistema di Cività Vecchia ed Ancona siglano l'alleanza. D'Alessandro è un'opportunità storica per l'Abruzzo. Poi oggi c'è la colletta alimentare nei 400 negozi abruzzesi. Un aiuto a 40.000 indigenti è quello che si può dare acquistando prodotti da donare ai poveri. E poi fino a domani, nati per leggere, 50 eventi. Si conclude la settimana dedicata ai libri come strumento di crescita. Completiamo la lettura delle pagine di primo piano del centro. Questa è l'attualità. Legge elettorale, ecco i nuovi collegi. Cambia tutto, solo gli eletti restano 21. Vengono modificati i confini e ripartizioni dei comuni. Medilla, DMDP, distorto il principio della rappresentatività in base alla popolazione. Andiamo a vedere adesso il messaggero Abruzzo. Ecco qui la pagina dedicata alle notizie regionali. strage del resort, le telefonate e quelli di Ligopiano non devono rompere le scatole. Almeno questo è quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche. Dirigente stradale ha un sottoposto. Gli ospiti devono restare calmi. Secondo i PM furono sgomberate prima le vie indicate dai politici. Queste le rivelazioni. Poi andiamo a vedere sempre su Rigopiano. Toccava al comune dire no all'albergo in quota. Questo quanto accertato per il momento dai magistrati, dalla magistratura inquirente. Una totale mancanza di coordinamento degli aiuti prima che diventasse operativa la centrale della prefettura. tra i motivi dei ritardi. Andiamo a vedere sempre su Rigopiano. La strage del resort, le colpe con le intercettazioni. Mail, caccia ai segreti sul rischio valanghe. L'inerzia della regione accertata dal 2014. Nelle conversazioni tra i dirigenti indagati. La chiave della mancata adozione della carta delle valanghe. e poi lo stanziamento arrivato dopo la tragedia. I periti dei PM al TGR si potevano salvare quelle vite. E poi i parenti tra dolore e rabbia. Oggi il via libera al nuovo docufilm sulla Shagura. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo della città. e troviamo invece una notizia che riguarda l'acqua e le captazioni al Gran Sasso. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha tenuto nascoste le captazioni, così il Forum delle Acque e il Movimento di Mobilitazione per l'Acqua, che chiedono di ritirare in autotutela l'autorizzazione all'esperimento SOX da effettuare nei laboratori sotto il Gran Sasso. Andiamo a vedere insieme questo servizio con le dichiarazioni di Augusto De Santis. L'Istituto di Fisica Nucleare, negli elaborati progettuali, non ha fatto quello che tutti i progettisti dovrebbero fare. Chiarire com'è lo stato di fatto, dove sono eventuali problemi e quali sono anche i vincoli da affrontare. La presenza di captazioni che danno l'acqua a 700.000 persone se ne sono dimenticata. I ministeri non si sono accorti che avrebbero potuto applicare e non l'hanno potuto fare un divieto di legge che esiste perché entro 200 metri dei punti di captazione idropotabili non sono permessi gli stoccaggi di materiale di sostanze radioattive o pericolose. Ed è così che secondo il gruppo di associazioni ambientaliste riunito sotto il nome di Mobilitazione per l'Acqua sono state concesse le autorizzazioni per la realizzazione nei laboratori INFN del Gran Sasso dell'esperimento SOX. La ricerca prevede l'arrivo in Abruzzo di una sorgente radioattiva dalla Russia il Cerio 144 potentissima racchiusa in un contenitore di acciaio di 3 mm a sua volta chiuso all'interno di un involucro di tungsteno spesso 19 cm. La sorgente radioattiva, secondo le carte nelle mani della Mobilitazione per l'Acqua arrivate grazie ad un accesso agli atti presso il Ministero dell'Ambiente presso quello dello sviluppo economico, avrebbe il peso di 50 grammi e dovrebbe arrivare racchiusa in questo guscio protettivo che però non è sigillato. A proteggere il Cerio 144 dall'esterno c'è un coperchio di acciaio tenuto in posizione da 20 viti. La perplessità degli ambientalisti riguarda una possibile manomissione dell'involucro protettivo oppure, peggio ancora, di un incidente all'interno dei laboratori dovuto ad errore umano o a un possibile sisma vista la zona altamente soggetta a terremoti. Cosa accadrebbe in questo caso, date anche la presenza di migliaia di tonnellate di trimetilbenzene e acquaraggia per l'esperimento Borexino? Ecco, questi scenari di rischio non sono stati neanche analizzati. Proprio loro escludono, perché uno dovrebbe dirci perché una persona magari anche interna possa, che ne so, perdere la testa e agire sul cilindro aprendo lo schermo che ci salva da eventuali radiazioni, però se lo apri non ci salva più. Quindi poi ci sta il rischio appunto sismico che è stato sottovalutato, è stato scontriato lo scuotimento e non la dislocazione per esempio, cioè la formazione di un gradino con lo spostamento proprio della faglia e quello da un punto di vista ingegneristico non è gestibile sostanzialmente. Quindi in quel caso ci sarebbe un enorme incidente coinvolgendo tutti gli apparati. Quindi in quel caso cosa accade? Neanche quello è stato considerato. Non è stata fatta la valutazione di incidenza ambientale. Perché? Perché non hanno segnalato che un sito di interesse comunitario è parco nazionale. Ecco un'altra cosa che non hanno segnalato. Non hanno segnalato che quello è un impianto a rischio di incidente rilevante. Che cosa avete intenzione di fare adesso con le carte alla mano? Noi chiederemo ai ministeri nei prossimi giorni il ritiro in autotutela delle autorizzazioni concesse appunto in quanto prive, concesse senza avere le informazioni necessarie. Andiamo avanti. La pagina di Pescara si apre con la sentenza che riguarda il processo intercorso fra Enrica Sabatini e la famiglia Teodoro. Teodoro non fu scelta perché capace. Il giudice assolve la Sabatini dei Cinque Stelle dall'accusa di diffamazione nei confronti di Gianni, papà dell'ex assessore Veronica. La capogruppo tira un sospiro di sollievo, non deve più pagare 250 mila euro di risarcimento. Qui vedete uno stralcio della sentenza, sentenza contro la quale i legali dell'assessore si riservano se proporre appello. Andiamo a vedere anche il titolo su questa notizia che è in apertura della pagina di Pescara sul messaggero. Un po' critiche alla Teodoro e il giudice assolve Enrica Sabatini dei Cinque Stelle. La grillina aveva stigmatizzato la nomina di Veronica perché figlia di Gianni, giudicata legittima critica politica dal magistrato. Possiamo andare a vedere insieme anche questo servizio. Per me è una giornata importante in realtà non per il Movimento 5 Stelle ma per la libertà di espressione, per l'articolo 21 della Costituzione che protegge chiunque voglia dare un'espressione ma anche una critica politica ai politicanti di turno. È uscita la sentenza del Temponio di Pescara sulla citazione di Gianni Teodoro alla consigliera Sabatini. È stata citata per un risarcimento d'anni per lesione dell'immagine di ben 250 mila euro. Bene, questa sentenza ci ha dato completamente ragione e ha anche condannato Teodoro al risarcimento e al rimborso delle spese legali di questo grado. Quindi è una sentenza che ci dà ragione e dà ragione anche alla critica politica fatta sulla nomina dell'allora Assessore Veronica Teodoro il quale poi ha lasciato spazio alla nomina del padre Assessore Gianni Teodoro. Cosa significa tutto questo? Significa che in realtà le persone, i cittadini, i giornalisti possono sentirsi tutelati dal sistema, tutelati da queste minacce di risarcimento portate avanti da grandi società ma anche da politici e se c'è un giudice terzo ed imparziale questo giudice davvero può tutelare la libertà di espressione. Quindi questo è un monito a chi cita sconsideratamente le persone civilmente per cifre mostre ma è anche un aiuto, un esempio per coloro che sono cittadini che non devono sentirsi minacciati. Sono estremamente felice perché dopo tre anni la sentenza ci dà ragione sia nel fatto che io avessi espresso un contenuto politico corretto e la forma con la quale io l'ho espresso. Quindi vince oggi la libertà di espressione, la forza e il coraggio di dire ad alta voce tante cose che magari qualcuno ha detto fuori microfono la città raccontava fuori da queste mura e noi l'abbiamo detta con coraggio e determinazione e ne siamo orgogliosi e fieri nell'assiste civica che rappresenta l'intera città. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro, tra le pagine di Pescara niente parere sulla fusione, il comitato striglia i sindaci sulla nuova Pescara, Alessandrini, Maragno e Dilorito tardano a pronunciarsi le associazioni, il presidente D'Alfonso va davanti con il progetto e a tal proposito il governatore oggi ha convocato tutti in regione alle 11.30 con gli stati generali della nuova Pescara. Andiamo avanti, Colli e Innamorati, caosse e proteste, residenti esasperati per traffico e smog raccolte 300 firme per fermare i lavori in via Monte di Campli e nel taglio alto area di risulta che ha illustrato il progetto a Milano, Alessandrini e Civitarese, ospiti alla Triennale. Andiamo avanti, violenza sulle donne, in piazza i familiari di Monia e Jennifer, il camper della polizia Laurum offre consigli e supporto, Anan che distribuisce sacchetti di pane in piazza, sacro cuore per la giornata contro la violenza sulle donne, tante le iniziative nei vari comuni abruzzesi. Proseguiamo, nidi a prova di terremoto, cantieri aperti per sei mesi, via gli interventi di sistemazione degli asili, la mimose e la conchiglia, ieri sopra luogo di Cuzzi e Alessandrini, in arrivo altri 800 mila euro dal MIUR. Nella pagina di Montesilvano, l'apertura è dedicata ai fanghi di Ortona, tre sindaci dicono no e sono Maragno, Florindi e Verrocchio, rispettivamente sindaci di Montesilvano, città Sant'Angelo e Pineto, contro l'ipotesi di sversamento sulla costa di 342 mila metri cubi di detriti derivanti dal dragaggio del porto di Ortona. Notizia questa che ritroviamo anche sul messaggero nella pagina dell'area metropolitana, fanghi di Ortona, no dai sindaci, il fronte comune dei primi cittadini di Montesilvano, città Sant'Angelo e Pineto. Il timore è che i sedimenti del dragaggio provochino danni al turismo. Prima di andare a vedere il servizio leggiamo anche quest'altra notizia. Bussi corsa per evitare la prescrizione e la cassazione a ridosso della scadenza, l'udienza di marzo a ridosso dell'estinzione dei reati, l'esito avrà rilievo per i risarcimenti. Come detto andiamo a vedere il servizio invece che riguarda la conferenza stampa di ieri contro lo sversamento dei fanghi derivanti dal dragaggio del porto di Ortona. C'è preoccupazione per il progetto della regione Abruzzo di sversare nel mare antistante ai comuni di Silvi, Pineto, Montesilvano e città Sant'Angelo i fanghi dragati dal porto di Ortona. Una preoccupazione che i sindaci dei comuni interessati assieme al presidente dell'area marina protetta Torre del Cerrano hanno voluto ribadire con una conferenza stampa in cui si chiede alla regione di rivedere quanto pianificato e cercare soluzioni alternative. Da un lato ci sono le ragioni ambientali, spiegano i sindaci, soprattutto legate alla vicinanza dell'area individuata per lo sversamento con la riserva naturale del Cerrano. Dall'altro ci sono ragioni di carattere turistico, quell'area, dicono, è tra le più frequentate sul fronte del turismo balneare. Contestiamo, tra virgolette, il fatto che non si voglia un tanto riflettere sulla procedura perché l'autorizzazione di quel sito risale al 2011, se non vado errato, quindi comunque prima dell'istituzione del SIC, perché l'area marina oggi è anche SIC ed è anche gestore del SIC, quindi come area marina abbiamo chiesto al Ministero un parere proprio negli ultimi giorni, nelle ultime ore, rispetto al fatto che non si voglia adottare la valutazione di incidenza ambientale, perché in quel caso si fanno approfondimenti anche diversi. Perché se da una parte è vero che siamo fuori dalla perimetrazione dell'area marina, dall'altra è vero anche che l'area marina non ha uno steccato, non ha un recinto in acqua dove specie marine rimangono all'interno. Ma ci preoccupa il fatto che se questi fanghi non sono fanghi ma sono delle sabbie possono tranquillamente essere utilizzati per il ripascimento che è un altro problema che interessa tutti i comuni costieri. Il comune di Montesilvano annuncia il sindaco Maragno, seguendo la diffida prodotta già dalla MP Torre del Cerrano, ha affidato ai legali tutte le carte affinché il progetto possa essere bloccato. E vogliamo scongiurare una scelta non oculata rispetto a quelle che sono le realtà dell'Abruzzo. Perché andare a dragare della sabbia da Ortona e andarla a convogliare in quella che è la zona più turistica di tutto l'Abruzzo, con la più grossa ricettività di strutture alberghiere. Abbiamo centinaia di imprese che vivono di turismo, abbiamo balneatori, abbiamo albergatori, abbiamo cittadini e turisti che verrebbero danneggiati in maniera irreparabile. Siccome tutti, la regione per prima, hanno sempre dichiarato ed esaltato la natura turistica dell'Abruzzo e la necessità di investire in turismo e ricettività, questa scelta mi sembra una scelta folle. La pagina dell'Aquila sul quotidiano Il Centro si apre con l'inchiesta sull'istigazione al suicidio del generale Guido Conti. Il blogger riascoltato dagli investigatori Santoriello sono a disposizione dell'autorità giudiziaria sulla morte di Guido Conti. si indaghi in modo approfondito. E poi Marsica, molestia in famiglia, faceva sesso davanti alla figlia minorenne. La politica, l'Iris, pronti anche a tornare al voto. L'Aquila, la reazione del centrodestra dopo la sentenza del Tar, che dispone il riconteggio delle schede, cautela a sinistra. Nel taglio basso, il processo a Nadia Desdemona Lioce, rissa sfiorata in udienza. I sostenitori dell'ex brigatista urlano in aula e il giudice Cervellini caccia tutti fuori. Proseguiamo con la lettura delle notizie dall'Aquila. Andiamo sul messaggero, la giungla del centro storico, zona verde e rossa, un caos. Documento dell'ex capo dei vigili urbani, ci si ritrova a percorrere zone vietate. Dopo la denuncia, il comando ha deciso di non rilasciare più permessi per circolare. Ernesto Grippo ha scritto una lettera al sindaco Biondi, prima di lasciare il suo incarico. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona. Sicurezza, qui ci vuole l'esercito. Il consigliere dell'Udc, Lino Cipolloni, fa notare come in altre città già si è attuata con l'operazione Strade Sicure. Proprio ieri il sindaco De Angelis ha incontrato il prefetto Linardi sull'emergenza che vive il capoluogo marsicano. Furti scippie e presenze inopportune nei giardinetti, la città in valia dei delinquenti. Andiamo avanti con le notizie sulla pagina di Chieti, sempre sul messaggero. Violenze e abusi sulle donne, le vittime sempre più giovani. Sono 88 i casi seguiti dal centro Alfa. Cresce la fascia tra i 20 e i 29 anni. Pressioni psicologiche, atti sessuali e botte, così le vite diventano incubi. Racconti shock, mi hanno massacrato perché ho incrociato lo sguardo di un altro. Non mi fa andare in gita perché è geloso. Altra notizia, parcheggio a Chieti Solidale, causa per danni al comune. Blue Parking fa ricorso al TAR per annullare la delibera. Falsi dati sugli introiti. Nella pagina della provincia, rifiuti, raccolta differenziata e boom. Soddisfatto il presidente di Ecolan, superato l'80%, realizzeremo l'impianto per il trattamento degli organici. Ranieri dice, continue richieste di adesione da parte dei comuni del Frentano, consuntivo positivo, l'utile è di 200 mila euro. Andiamo a vedere la pagina di Chieti sul quotidiano. Il centro, cambio nella sanità tiatina, il genetista Palca lascia, ma farò il volontario, dice il fondatore della genetica medica di Chieti, va in pensione dopo 44 anni di ricerca e la promessa, non lascio solo il mio successore. E poi nel taglio basso la cronaca, a 9 anni, fugge da scuola e vaga in centro. Chieti si è lontano dopo aver dato in escandescenza in classe, ritrovata dalla polizia dopo due ore. Andiamo a vedere la pagina di Teramo, notizia che abbiamo già visto in precedenza sull'esperimento del Gran Sasso. L'INFN ha omesso di dire che ci sono le sorgenti, questa è l'accusa degli ambientalisti. E poi nel taglio basso, il caso di Renata Rapposelli, l'auto dei Santoleri, spezionata per 10 ore, il giallo della pittrice uccisa, i RIS trovano pietre e terriccio da confrontare con quelli di Tolentino, dove è stato ritrovato il cadavere della donna. Andiamo a vedere anche le notizie dal Teramano sul Messaggero. Black Friday, buona partenza, tanta gente da fuori regione, gli sconti fino al 30% invogliano e stanno rivitalizzando il centro storico. E poi Bancarotte, liquidatore nei guai per il compenso, Alessandro Righetti di Martinsicuro, sotto processo ascoltato, ex allenatore della Sam Calcio. Nel taglio basso, la crisi al Comune di Teramo, rinviamo il Consiglio e la maggioranza ci prova. Documento congiunto per salvare Brucchi, che vorrebbe prima risolvere il caso della Tercop. Andiamo in provincia e ritroviamo le indagini sulla macchina dei Santoleri, Terriccio e Fili d'Erba, trovati nell'auto. Chiaramente ci saranno altre indagini a proposito. E poi, altra notizia di cronaca, Giulianovo, operazione Castrum, scarcerato di Filippo Magrini, vince Altar contro il Comune. Il provvedimento nel giorno del compleanno resta ai domiciliari. La Mastropietro, nel taglio basso, auto come a riete per svaliggiare il centro commerciale Val Vibrata. Andiamo a vedere la città, ancora per le notizie dal Teramano. Crisi a Teramo, il Consiglio decisivo slitta di una settimana. La maggior minoranza chiede un rinvio del confronto, più di contrario ma anche no, e spunta il caso Tercop. La strategia del Sindaco è provare a ricompattare una maggioranza, convincendo qualcuno dei gattiani di Futuroin a sostenerlo. Continuiamo con le notizie da Teramo. Decoro, il Comune comincia da Piazza Sant'Anna, risistemati gli arredi. Ancora la metà degli studenti non si sente sicura a scuola. Presentati i dati della ricerca, torniamo a volare, condotta nelle scuole del capoluogo dopo il terremoto. Mai più in silenzio contro il femminicidio, un quadro del Seicento di Artemisia Gentileschi sui cantieri e gli edifici pubblici. E' il simbolo della campagna della Commissione Pari Opportunità. Ancora notizie di scarica abusiva, imprenditore nei guai trovata dai carabinieri grazie all'elicottero nella zona industriale di Montorio al Vomano. E poi maxifurto di prodotti della Apple a Petriccione. I ladri svaliggiano la media service di Castellalto. Si sospetta un colpo su commissione da almeno 80 mila euro. A Colonnella, la spaccata al centro commerciale, i ladri provano ad assaltare l'OVS. E poi il RIS che passa al setaccio, l'auto dei Santoleri, controllo approfondito. Verranno effettuati delle comparazioni sul terriccio ritrovato nella macchina rispetto a quello di Tolentino, dove è stata ritrovata la donna. E poi la protesta sulla Tari. Siamo nella pagina di Roseto. Chiamata le armi per il turismo rosetano. Grande partecipazione ieri sera alla manifestazione promossa per presentare la class action contro l'amministrazione e contro gli aumenti sulla Tari. Il video, applausi sarcastici dei presenti, quanto è stato riproposto il video in cui il sindaco prometteva di non voler alzare le tariffe della Tari. Apriamo la pagina dello sport adesso. Partiamo con le dichiarazioni del presidente della Lega Pro l'Abruzzese Gravina, che dice no al commissario Figgici in ballo e il bene del calcio. Gravina torna a parlare dopo le dimissioni di Tavecchio e Pungola Malagò. Lo sport in generale deve essere ristrutturato. Io a capo dell'A, che onore. Si presenterà l'assemblea della serie C da dimissionario. Lo faccio per una questione di coerenza. Decideranno le società che cosa fare. Andiamo avanti e chiaramente parliamo adesso del Pescara, perché oggi si gioca. E quindi Spezia Pescara, Zeman, tante critiche, ma giochiamo meglio di tutti. L'allenatore, ovunque vado, mi dicono che il nostro è il miglior calcio della serie B. Queste le parole del tecnico Boemo. Prima della partenza per la Liguria. Serie B alle 15 i biancazzurri di scena al picco. il Boemo cerca il blitz, affidandosi alla stessa formazione che ha battuto la Provercelli. Allora, andiamo ad ascoltare le parole di Zeman. Vabbè, io penso su Spezia. Si Spezia da tanti anni cerca di lottare per la Serie A, cerca di arrivarci. È vero che hanno cambiato ogni anno, perché non ci sono mai riusciti. Ma è una squadra sempre con un'ambizione. anche se in questo momento non sta con le prime. È una squadra aggressiva che cerca di attaccare la palla e poi davanti, se funzionano avanti, possono prendersi soddisfazioni. Gilardino è il giocatore che mi ha punito spesso. Peccato, l'anno scorso non era a disposizione perché aveva problemi fisici. Visto che è tornato a giocare, che li ha risolti e rimane sempre un grande giocatore. Il Granosce è sicuramente più da movimento, quindi non si sa mai da dove può arrivare. È un giocatore importante, nel senso che la porta la vede e i spazi liberi li vede. Poi il problema nostro è cercare di evitare, di farli trovare. Ebbè, io ne ho tante, a parte che mi mettono in difficoltà, perché penso anche mercoledì, che hanno giocato quelli che di solito non giocano, per me mi hanno fatto bene, ma non tanto tecnicamente, ma come concetti. Quindi c'erano i problemi. A parte che ho risposto a una domanda, non è che è uscito da me, ma se mi si chiede perché la gente non viene, allora dici, la gente non viene perché bisogna anche indirizzarla e farci cosa, a parte le prestazioni. Ma poi le prestazioni, per me a parte partita con Brescia, non erano brutte, sono valutazioni individuali. Io continuo a dire che noi, se la Juventus, l'ho detto già prima, se la Juventus ha tutto sport come giornale, tutto sport aiuta la squadra. Da noi ci sono solo critiche. È normale che la gente non viene al campo, le leggi si fa influenzare, perché è normale, voi fate quello, fate informazione, per me informazione, visto che siete giornalisti di Pescara, dovrebbero cercare di aiutare la squadra, aiutare la gente a venire. Poi è normale che il compito primario è nostro, perché se giochiamo bene, la gente viene. Andiamo avanti, sempre sulla partita Spezia-Pescara, Sansovini sarà una partita dura, il pericolo è granoce, il doppio ex nel 2011-2012 segnò 16 reti col Pescara di Zeman, giocando sulla fascia. Mi edattai e andò benissimo, racconta Sansovini. Benali deve convincersi di poter fare quel ruolo. Andiamo a vedere le probabili formazioni, arbitro Pinzani di Empoli, fischio di inizio alle ore 15, il Pescara con il 4-3-3, con Fiorillo in porta, Mazzotta per Rotta, Fornasiera e Crescensi in difesa, Brugman, Carraro e Palazzi a centrocampo, Capone, Pettinari e Mancuso in avanti. Lo Spezia di Fabio Gallo con il 4-3-1-2, Manfredini in porta, De Colle, Capelli, Gianni e Lopez in difesa, Vignali, Bolsoni e Pessina a centrocampo, Mastinu a supporto delle due, due punte, Forte e Granoce. Andiamo a vedere anche il titolo dell'Abruzzo Sport del messaggero sulla gara del picco, Pescara, ora di conferme. Biancazzurri sul campo dello Spezia per verificare i progressi messi in mostra contro la Provercelli. Affrontiamo una squadra aggressiva che in avanti può essere molto insidiosa. Attenzione a Granoce. Le formazioni, Zampano Crescensi, l'unico dubbio per quanto riguarda Zeman, i bianconeri perdono l'ex Gilardino, questo per quanto riguarda gli avversari. Nel taglio basso di questa pagina troviamo il Teramo e la Serie C, Teramo contro la Samba, ci sarà anche Amadio per il tecnico bianco-rosso Asta, c'è la scelta tra Barbuti e Foggia, chi giocherà insieme a Tulli. Andiamo a vedere il titolo sulla Serie C per quanto riguarda sempre il Teramo. Ugo Lotti vota Teramo, bianco-rossi favoriti, il Bonolis l'arma in più, così l'allenatore doppio ex della sfida con la San Benedettese prevede una bella partita. Il tecnico Asta recupera Amadio. Continuiamo con l'eccellenza adesso, Chietin Cerottato, l'ex Tatomir a caccia del colpo, Nero Verdi sfidano il Sambuceto senza Cattenari e Simonetti oggi Torrese Martinsicuro. Domani in campo la promozione con Casalbordino Ortona, big match di giornata. Andiamo avanti con la Serie D, il derby la vastese a Francavilla pronti a spiccare il volo. Il patrona ragonese Bolami ci crede se vinciamo il derby possiamo lottare per qualcosa di importante oggi in campo. San Nicolò e Nero Stellati per la palla a volo domani l'impavida contro Spoleto oggi tocca alla B2 donne andiamo ancora avanti con lo sport sul centro Pescara a caccia dell'impresa contro il Barcellona nella UEFA Futsal Cup il Delfino deve battere i forti catalani e sperare in un passo falso dell'Economac per accedere alle finali. Ancora lo sport sul centro il Pescara torna in vasca oggi il debutto a Palermo per la palla a nuoto di A2 riparte dalla Sicilia la stagione dei neopromossi biancazzurri l'allenatore Mammarelle il nostro obiettivo e la salvezza andiamo a vedere anche la seconda pagina dello sport sul messaggero e troviamo il calcio a 5 Pescara serve un'impresa a battere il Barcellona con 4 gol di scarto per passare il turno in UEFA Futsal Cup assiste il grande ex dobbiamo essere compatti e tentare di sfruttare al massimo i loro errori e poi ancora per il calcio a 5 e questa pone a Imola con Boccao la squadra di Ricci fa debuttare il nuovo acquisto e prova a dare l'assalto al primo posto questa era l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi ricordo l'appuntamento di oggi con la nostra informazione alle 14 alle 19 alle 23 con il TG6 ma vi ricordo anche che attorno alle 14 e 30 inizia diretta stadio per seguire assieme ad Andrea Costantini e Paolo Renzetti la partita fra Spezia e Pescara è davvero tutto grazie per averci seguito per essere stati con noi vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana grazie per averci seguito grazie per averci seguito